Sul recente incendio avvenuto a Favara che ha visto protagonista la barca Pescador sita presso il Belvedere avvenuta la settimana scorsa, interviene oggi l'associazione Consumer per via del suo rappresentante legale, avvocato Giuseppe Di Miceri, che afferma come stiamo intervenendo solo ora in quanto riteniamo che l'incendio che ha distrutto il monumento dell'immigrazione, l'imbarcazione Pescador, non diventi il simbolo di una Favara razzista che non è. L'imbarcazione Pescador è stata affidata alla Procura della Repubblica su espressa richiesta ai frati francescani di Favara, che sono diventati così titolare del bene, con verbale di passaggio di consegna dall'Agenzia delle Dogane di Porto Empedocle al Convento dei Frati di Favara. Successivamente il Comune di Favara, con atto deliberativo di giunta, ha elevato il Pescador a monumento pubblico, prendendosi l'impegno, senza mai mantenerlo fino al suo completo abbandono, della custodia, della tutela, della manutenzione dello stesso, affinché venisse evitato che il degrado dell'imbarcazione diventasse per i materiali contenuti un pericolo alla salute pubblica. Oggi, afferma Di Miceli, il monumento è stato dato alle fiamme. Da chi e perché, si ci chiede. A questa domanda darà di sicuro una risposta alla Procura della Repubblica di Agrigento, che ha aperto un'indagine sull'accaduto. Quello che oggi invece vogliamo affermare, afferma Di Miceli, con forza dopo tre anni di presenza come associazione dei consumatori, che conta solo in ambito locale, quasi 500 iscritti, che Favara non è razzista. Anzi, il cittadino favarese si è sempre distinto per la sua accoglienza, integrazione, cordialità nei confronti del forestiero. Qualunque sia la sua provenienza e il suo ruolo nella società, quello che emerge dall'incendio del Pescador è la coscienza di una città che urla no al razzismo, e alla quale chiediamo di alzare la voce non solo quando si verifica l'irreparabile, ma anche prima che lo stesso si verifichi, proprio per evitare successivamente di piangere sul latte ormai versato. Sottolineano infine che a questo ultimo rimprovero non si sottrae nemmeno l'associazione scrivente. Sottolineano infine che a questo ultimo rimprovero non si sottrae nemmeno l'associazione scrivente. Grazie.